In breve 40 ragazzi delle classi quinte di 37 scuole medie e superiori piemontesi dal 14 al 16 maggio partecipano a un viaggio studio all'AIA alla scoperta delle istituzioni europee e internazionali si tratta del premio per un gruppo di vincitori del concorso Diventiamo Cittadini Europei bandito dal Consiglio regionale del Piemonte una commissione esaminatrice composta da docenti universitari ed esperti della materia ha individuato i migliori elaborati realizzati dagli studenti degli istituti superiori piemontesi su una tematica europea Quest'anno le proposte di riflessione vertevano su due problematiche a scelta la prima sull'Unione Europea e possibili modelli di sviluppo sostenibile la seconda sui rapporti fra l'Europa e paesi dell'area sud-mediterranea in una fase delicata della loro trasformazione politica in senso democratico